Ciao, sono qui per presentarvi un prodotto meraviglioso, che è questo, lo shampoo della più bella di Parma. Tutto professionale, ha così tante specialità che non riesco a ricordarle tutte. Leggiamole insieme. Lascia i capelli lucidissimi, idrata e rigenera. È delicato, riequilibrante, protettivo, antiossidante, con filtro UV. È senza sless e parabeni. Questo shampoo meraviglioso lo potete acquistare facilmente sul sito www.michelegabelli.com o chiamando il numero 338 22 74 758 e pensate che costa solo 10 euro.